Teramo dovrà presto decidere dove realizzare il nuovo ospedale per il quale sono stati istanziati dal Ministero della Salute 82 milioni di euro. E in città si alzano i toni del dibattito. Associazioni, comitati di quartiere, movimenti politici lanciano una battaglia referendaria per coinvolgere direttamente la cittadinanza su dove costruire la nuova struttura. Ma facciamo un passo indietro. Nel 2017 il Consiglio Comunale con l'attuale sindaco Gianguido D'Alberto aveva già votato all'unanimità che il nosocomio di nuova costruzione rimanesse all'interno del Comune Teramano, senza però specificare esattamente il sito. L'Asla di Teramo ha poi individuato e proposto l'area di Piano Daccio con un project financing e un costo di 250 milioni di euro per la struttura sanitaria. Oggi Futuro In, lista di opposizione al Comune di Teramo, concretizza il dibattito presentando una proposta di progettazione che prevede l'ampliamento del vecchio Mazzini a Villa Mosca. Opzione che costerebbe la metà di quella prevista a Piano Daccio, circa 120 milioni di euro, che raggiungerebbe gli stessi standard e che non creerebbe così un vuoto urbanistico nell'area dell'ospedale Mazzini. Una battaglia referendaria per dire che l'ospedale di Teramo deve restare a Villa Mosca. Senza dubbio sì. Credo che lo strumento di democrazia diretta sia il più adatto per decisioni importanti come queste. Quindi lo Statuto lo prevede e noi andiamo avanti su questa via. Quanto costerà farlo restare a Villa Mosca? La metà di quello che costerebbe andando su un'area nuova, perché si vanno a risparmiare tutta una serie di costi. Qui ci sono delle strutture esistenti, ad esempio il parcheggio, che appunto non andrebbero costruite. Ci sono i sottoservizi già esistenti. L'area è di proprietà della ASL, quindi non si deve acquistare nessuna area. Si risparmia la metà, diciamo che se nell'area di Piano Daccio la proposta Pizzarotti mi sembra fosse intorno ai 200 milioni di euro, ecco qui siamo sui 120-130, quindi già 80 ne ha già la ASL, viene fuori un project, una proposta del privato molto più light rispetto, molto più leggera rispetto a quella che magari si poteva venire fuori in un'area ex novo, senza nessuna struttura, senza sottoservizi o peggio da acquistare. Intanto nel fine settimana scenderanno in piazza anche i Cinque Stelle, che hanno previsto banchetti nel centro storico di Teramo per la raccolta di firme a favore dell'ospedale a Villa Mosca. Per i pentastellati si tratta di una battaglia che non ha colore politico, ma di una scelta fondamentale per il futuro del capoluogo, sulla quale la cittadinanza deve esprimersi. Al sindaco cosa chiedete? Beh, di darci una mano, mi sembra ovvio. Credo che questa sia una battaglia nell'interesse della città, non è una battaglia di fazione o di parte. È qualcosa che dovrebbe interessare tutti, è qualcosa che l'amministrazione, a mio avviso, dovrebbe fare e dovrebbe aiutarci a fare.